Con l'inizio della stagione del Teatro Comunale di Cavriglia il 2 dicembre c'è anche l'appello ad abbonarsi perché il piatto forte non sarà uno o due appuntamenti ma saranno una serie di appuntamenti che tra l'altro hanno anche un light motive. Assolutamente sì, noi invitiamo tutta la cittadinanza del Valdarno, non soltanto del Comune di Cavriglia, di abbonarsi al nostro teatro. La stagione inizierà il prossimo 2 dicembre, proseguirà il 17 e poi l'anno nuovo anche con molti appuntamenti non soltanto teatrali ma anche musicali e di vernacolo. È un'occasione importante perché ad un prezzo quasi simbolico ci possiamo abbonare ad una stagione che vi propone tanto, dalla comicità alla riflessione all'avanspettacolo, quindi tanti tipi di spettacolo diversi, tutti di grande qualità. Con 70 euro si fa un abbonamento al teatro comunale di Cavriglia, il ridotto per chi ha la tessera anche soci cop, addirittura 50-55 euro, quindi davvero una cifra simbolica. Si possono vedere spettacoli appunto di alta qualità ed ammirare anche la bravura di grandi attori che calcheranno il nostro palcoscenico. Vi ricordo il primo, solo il primo per un maestro di comicità come Gabriele Cirilli che aprirà la stagione, tra l'altro la prima nazionale la farà proprio al teatro comunale di Cavriglia il 2 dicembre alle 21 e 30. Quindi il nostro appello è utilizzare il mese di novembre, i nostri uffici sono aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino ogni mattina dalle 8 alle 14 per poter abbonarsi al teatro comunale di Cavriglia. È una crescita di civiltà, non soltanto di cultura. Un teatro bello e caratteristico e simbolico come quello di Cavriglia è davvero un gioiello per il Val d'Arno. Usatelo perché il teatro è di tutti e della nostra comunità.